Continua la telenovela del Pala del Mauro. All'incontro convocato questa mattina in comune dal vice sindaco Elena Iaverone, l'ingegnere Gianandrea De Cesare non si è presentato. Al centro del braccio di ferro il mancato pagamento da parte della società bianco-verde delle due rate di 340 mila euro relative al mutuo per i lavori di restyling della struttura del 2008. Stiamo valutando insieme al sindaco il da farsi. Sicuramente l'inadempimento da parte della Sidigas c'è perché due rate, una scaduta il 30 aprile e l'altra scaduta il 31 ottobre non sono state versate. La cosa importante è che il comune di Avellino ha l'escussione fideiussoria sulla mancanza del versamento di queste due rate e quindi noi dovremo versare entro fine anno un milione e mezzo di euro. Questo comporterà dei problemi ai fini finanziari per l'ente. Quindi mi auguro che la questione possa essere risolta al più presto possibile. La Iaverone chiarisce anche le differenze con la convenzione che prevede un contributo di 130 mila euro annue del comune alla Scandone, contributo che però non sarebbe stato versato. Anche perché ho sentito che la Sidigas vanta eventuali importi derivanti dalla convenzione, però vorrei chiarire che si tratta di due percorsi separati, quello della convenzione derivante dal comodato d'uso e quella invece dell'accensione del mutuo di due milioni e mezzo. Per quanto riguarda la convenzione, i lavori straordinari dovevano essere concordati prima di essere realizzati? Sembra che questa cosa non sia successa in realtà? Sembra che il settore lavori pubblici non ha comunicato al settore finanze che siano stati concordati e autorizzati preventivamente i lavori. Comunque il settore patrimonio è a disposizione per la società Sidigas eventualmente per un'eventuale compensazione. Ma la cosa importante è adempiere al pagamento delle due rate del mutuo. Intanto il 23 dicembre, cioè mercoledì, c'è il derby con Caserta. Che cosa succede? Il palazzetto si chiude oppure no? Noi non parliamo di chiusura del palazzetto, noi parliamo di risoluzione contrattuale perché il contratto prevede che nel caso in cui la Sidigas non versa due rate anche non consecutive relativamente al mutuo, noi dobbiamo procedere alla risoluzione contrattuale. Io mi auguro che questo non avvenga e quindi sono in attesa del legale rappresentante.